Dottoressa Alessandra D'Amato, Angel Investor Accelera e responsabile del settore editoriale. Dottoressa, qual è il suo ruolo in Accelera? Allora, il mio ruolo in Accelera è quello di Angel Investor. L'Angel Investor in Accelera accompagna, diciamo così, supporta il cliente in quello che è il suo sviluppo e la sua crescita, ovviamente imprenditoriale, finanziario, secondo insomma diverse fasi che noi abbiamo strutturato, ponderato e studiato a fondo e sono assolutamente vincenti. E come responsabile invece? Che cosa si occupa? Come responsabile io tratto maggiormente il reparto editoria. Abbiamo diverse testate, in pancia appunto di Accelera c'è Startup Magazine per dirne una, Lettera 63, inoltre abbiamo canali YouTube, con quello che riguarda tutta la parte della rassegna stampa e tutto il reparto editoriale, però con una visione un po' più tecnologica e verso l'intelligenza artificiale. Cosa si aspetta da questo convegno sull'equity crowdfunding? Mi aspetto che la visione del gruppo sensibilizzi un po' la visione generale, ossia il crowdfunding, così come lo conosciamo, per citare alcune delle piattaforme più famose come Mama Crowd o altre, hanno una diversa impostazione di crowdfunding. Noi diamo un servizio aggiuntivo, seguendo il cliente anche in questo, quindi presentando attraverso dei video specifici il progetto del cliente e accompagnandolo anche in questa fase. Perfetto, grazie. Grazie a lei.